ciao a tutti oggi è il 26 giugno e siamo in cammino lungo il sentiero italia dopo le prime tappe percorse all'inizio del mese precisamente da luino fino alla diga di creva passando per il lago d'eglio e il passo forcora oggi abbiamo ripreso il cammino da dove l'abbiamo lasciato precisamente dalla diga di creva e stiamo per giungere a porto ceresio si tratta di due tappe in realtà che abbiamo unito in una precisamente la tappa diga di creva marchirolo e marchirolo porto ceresio in totale sono le due tappe sono circa 30 chilometri e sono molto piacevoli da percorrere infatti si snodano tutto attraverso i boschi e lungo le fortificazioni della linea cadorna che era una linea defensiva costruita prima della prima guerra mondiale qua alle mie spalle c'è un piccolo esempio ormai manca un chilometro e mezzo e giungeremo porto ceresio ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti